A 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 Afin Ascutiamo un po di televendite. Selezionate e remixate per voi dal nostro DJ Kiko! MITICO! Dada 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 Cordo! Papa! Tesò! Ciao! Ma che stai a fa? Quando si passavano sti periodi qua, cioè che per esempio uno stava litigato con la fidanzata e poi si lasciava Oggi sei proprio carina Carina? Che culo Cioè mi ricordo fino a 20, 25, proprio una sofferenza proprio devastante, proprio una cosa disumana Ma a settembre non c'è il supplente, prof? Supplente? Non le hanno detto niente E adesso il cedriolo a chi tocca? A chi tocca? Io adesso proprio non riesco neanche a provare qualcosa di lontanamente paragonabile Ci hanno tolto pure il sacro santo dolore di pancia, le cosiddette pene d'amore Il classico padre medio, 40 anni nel 2016 Il classico padre del vento Vabbè ho capito il concetto, non c'è bisogno che... Perché bisogna impegnare il cervello con altre preoccupazioni che non danno il mal di pancia Per farlo ci vogliono due palle così Gran bello scherzo, complimenti! Devo farmi vedere E' poco possibile Cos'è sta roba? Hai messo il mangionasse Ma se t'hai ferma che tanto a sta cassetta non ti piace E' insomma professore, a settembre lavora là Ma non è contento? Ti potresti pure riposare adesso, non te sembra Abbiamo registrato un omicidio per sbaglio Mi si è scoraggiato se siamo dimenticati di mixarlo Ma te stai al sito un minuto Stavi creando un'orfana Perché te c'è le manie del suicidio Ma sti Radiohead Vanno proprio bagate la testa a voi Vanno proprio bagate la testa a voi